Vienna 1886, il giovane medico Sigmund Freud si ritrova ad indagare su una serie di terribili omicidi. Il giovane neurologo, forte sostenitore di singolari e decentriche terapie, capirà ben presto di trovarsi dinanzi ad una misteriosa cospirazione, quasi da sentiero della mano sinistra. Ad ogni modo, l'idea di trasportare tutto il narrato su un piano quasi esoterico, iniziatico, facendolo diventare il fulcro dell'intera vicenda, risulta straordinario, anche con tutto il sangue, le orge e gli elementi paranormali che tendono a rendere più oscura l'intera serie.